Oggi vi raccontiamo una novità. In tutte e 13 le nostre anagrafi ci sono delle nuove cabine per fare la fototessera che hanno una particolarità. Nel momento in cui vi scatterete la foto all'interno, questa sarà collegata direttamente digitalmente con lo spoltello e con l'operatore che dovrà fare la vostra carta di identità. Può sembrare una cosa piccola ma sicuramente risparmia tempo perché si salta l'operazione di scansione e di centratura della foto ma soprattutto vi evita il disagio di dover andare a rifare la fototessera in un altro luogo nel caso in cui ve la foste dimenticati o nel caso in cui non l'aveste fatta al primo momento nel modo corretto. È una piccola novità ma per noi è importante perché innanzitutto queste cabine sono accessibili a tutti e poi perché si inserisce in un processo più ampio di semplificazione e miglioramento dei nostri servizi.